Una debole perturbazione è in transito in questione sul Mediterraneo centrale e comporta un generale peggioramento delle condizioni meteorologiche. In Toscana giovedì 31 gennaio prevalentemente nuvoloso con precipitazioni sparse, al mattino possibili deboli nevicati fino a quota di bassa collina o di pianura sulle province di Siena, Rezio e Firenze. Dal pomeriggio quota neve in decisa risalita fino a quota di montagna, venti deboli variabili sulle zone interne fino a moderati o forti di scirocco lungo la costa, mari poco mossi sotto costa, mossi a largo, temperature minime in calo, massime in aumento sulla costa. Sul territorio provinciale da nuvoloso a coperto con piogge diffuse dal pomeriggio, a Lucca e sulla Piana temperatura minima meno 1, massima 8 gradi, a Castelnuovo-Garfagnano e zone montane minima 0, massima 8, a Via Regge sul litorale minima 4, massima 12 gradi. Venerdì giornata di pioggia con temperature indeciso aumento.